Me l'avete chiesto in tanti quindi vediamo come funziona il dropshipping su Vinted, argomento molto controverso. Ciao sono Daniele per gli amici Subri e se vi interessa il dropshipping questo video fa sicuramente per voi. Fermi tutti però lo so che questa tipologia di video attira un sacco di gente nuova quindi ricordatevi di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i contenuti che faccio uscire 7 giorni su 7 che parlano di come comprare, vendere, guadagnare e risparmiare online. Avevo già fatto un video che trattava di dropshipping con Vinted e non su Vinted che sono due cose molto distinte infatti avevo fatto dropshipping con Vinted quindi usando Vinted come fornitore mentre in tanti hanno detto ah ok dropshipping Vinted quindi io metto in vendita gli oggetti su Vinted facendo dropshipping ma non è così che funziona infatti facendo 4 chiacchiere con alcune persone che mi hanno scritto dicendomi ehi ho visto il tuo video ho fatto dropshipping su Vinted ma adesso non riesco a spedire l'oggetto com'è che faccio e quant'altro avevo capito che non avevano neanche visto il contenuto ma guardato la copertina, visto il titolo e fatto di testa loro. Attenzione però a fare una cosa del genere non parlo solo per i miei contenuti dove ci tengo ad essere sempre chiaro nel titolo e nella copertina non mi interessa se verrà cliccata di meno ma non mi piace fare del clickbait quindi quando dico qualcosa in un contenuto cerco di essere sempre chiaro anche nel titolo e nella copertina e per l'appunto in generale non prendete mai per buono qualcosa solo da un titolo di una copertina ma vale anche per un articolo di giornale leggete bene oppure ascoltate bene quello che dice una persona e poi se fa per voi lo mettete in pratica. Oggi quindi vediamo come fare dropshipping su Vinted quindi prendere oggetti da altre parti e metterli in vendita su Vinted facendo dropshipping partiamo però dalla domanda base ovvero si può fare dropshipping su Vinted e la risposta rapida è sì ma ci sono diversi limiti non che la piattaforma nel regolamento impedisca di fare dropshipping su Vinted perché non c'è scritto da nessuna parte e non penso ci abbiano neanche pensato ma sono proprio dei regolamenti interni alla piattaforma e anche dei modi di fare che ha la piattaforma che limitano il dropshipping quindi direi proprio di partire da questi vediamo quali sono partiamo dalla numero uno la più importante ovvero che tante categorie non hanno la spedizione personalizzata ovvero l'unica spedizione che consente effettivamente di fare dropshipping perché altrimenti questa come tante altre piattaforme del settore tende a controllare la spedizione dall'acquirente al venditore per avere anche una maggior sicurezza seconda cosa molto basilare ricordo sempre che questa è una piattaforma di vendita tra privati perlomeno in Italia infatti non sono ammessi ancora i negozianti italiani solo quelli francesi quindi un negozio che fa un'attività spropositata per un volume d'affari da privato sarà posto sotto osservazione e di conseguenza potrebbe esserci il ban certo si potrebbero usare più account ma con tutte le limitazioni del caso che ho già spiegato in un altro video terzo punto fondamentale trovare fornitori non è semplice perché stiamo parlando di una piattaforma dove la maggior parte degli utenti vende usato certo c'è anche del nuovo ma non si potranno mettere centinaia di oggetti tutti nuovi perché altrimenti si ricade nel punto 2 e si rischia il ban comunque trovare fornitori di oggetti usati non è impossibile si può fare tranquillamente dopo aver visto però questi tre punti principali analizziamo che cosa vuol dire fare una spedizione personalizzata sulla piattaforma di Vinted andando banalmente a leggere quello che c'è scritto nel regolamento si può capire che dal 18 ottobre la spedizione personalizzata non è più disponibile per tutti gli articoli ma solo per determinate categorie la piattaforma non lo specifica ma stiamo parlando del 2022 cercare di capire al volo quali sono le categorie nelle quali si può spedire con la spedizione personalizzata è molto semplice si possono prendere in esempio quelle che hanno all'interno degli oggetti troppo ingombranti o pesanti per la spedizione gestita da Vinted un'altra cosa da tenere molto ben presente quando si parla di spedizione personalizzata è che il venditore è responsabile in toto di quello che succede nella spedizione quindi dal momento in cui viene affidata al corriere fino al momento della consegna Vinted infatti fa presente che con la spedizione personalizzata non offrirà nessun risarcimento se il pacco verrà rubato, smarrito o danneggiato questo vuol dire che se un venditore si lamenta di qualsiasi cosa il pacco è arrivato vuoto, non è arrivato, il pacco è danneggiato o qualsiasi altro problema sarà il venditore che dovrà offrire una soluzione al problema ma quindi nel concreto come si svolge il dropshipping su Vinted vediamolo nel dettaglio come per tutte le altre vendite bisognerà innanzitutto cliccare sul tasto centrale dove c'è scritto vendi per poi mettere in vendita l'oggetto iniziando dalle foto e qua potranno essere di due tipi se si mette in vendita un oggetto nuovo saranno le classiche foto di catalogo quindi quelle con lo sfondo bianco mentre se si mette in vendita un oggetto usato le foto dovranno essere più verosimili possibili all'oggetto che si andrà a spedire quindi anche con tutti i difetti dell'oggetto del caso se le fornisce il fornitore è decisamente meglio per quanto riguarda invece il titolo e la descrizione ovviamente dovranno essere fatti nel migliore dei modi e soprattutto se si tratta di un oggetto usato descriverà al meglio anche tutti i difetti dell'articolo subito dopo arriva la scelta della categoria cosa molto importante ed essenziale perché come abbiamo visto non tutte possono offrire la spedizione personalizzata un esempio tra tutti di categoria che ha sempre la spedizione personalizzata è quello che riguarda i bambini soprattutto nella sottocategoria mobili per bambini e di conseguenza tutte le categorie che fanno parte di questa sottocategoria proprio perché si tratta di oggetti grossi ed ingombranti logicamente non potrete spedire una playstation 5 in dropshipping mettendola nella categoria dei bambini con i mobili dei bambini giusto perché c'è la spedizione personalizzata poiché non starete vendendo l'oggetto corretto nella categoria corretta successivamente dovrete mettere tutte le informazioni riguardanti le condizioni dell'articolo il brand e tutte le altre cose passando per un passaggio fondamentale ovvero il prezzo e subito dopo le dimensioni del pacco qua seguitemi molto attentamente perché arriva la parte proprio dedicata alla spedizione quello che interessa al dropshipping cliccando infatti sulla dimensione del pacco si potrà scegliere tra due opzioni inserire il prezzo della spedizione nazionale oppure internazionale ma quest'ultima sarà facoltativa non sarà infatti obbligatorio spedire all'estero e io ve lo sconsiglio perché sì si avrà una clientela molto più vasta però potrebbero esserci molti problemi per il costo della spedizione innanzitutto e soprattutto per quanto poi riguarda il reso sarà infatti obbligatorio inserire un prezzo nella spedizione nazionale che banalmente quindi non potrà essere a zero potrete anche mettere un euro ma zero euro no facendo così un acquirente francese spagnolo di qualsiasi altra nazionalità quindi non potrà comprare il vostro articolo ma potrà essere solo comprato da un acquirente italiano tutto molto bello e pratico ma cosa succede quando un acquirente compra un oggetto non verrà creata alcuna etichetta di spedizione proprio perché la spedizione è personalizzata quindi è il venditore che si deve occupare della stessa ma verranno forniti il nome il cognome la via il cap la città e il numero di telefono dell'acquirente ora con questi dati dovrete far fare la spedizione al vostro fornitore quindi dovrete andare sul sito del fornitore che avrete scelto per mettere in vendita questo oggetto su vinted inserire tutti questi dati e fargli spedire l'oggetto a casa dell'acquirente chi si può usare come fornitore banalmente tutti e nessuno perché dovrete decidere che articoli mettere in vendita quindi ci potranno essere articoli molto convenienti su amazon ebay ma anche subito oppure qualsiasi altro fornitore che fornisca oggetti atti alle categorie prima citate quindi quelle con oggetti ingombranti all'interno poniamo quindi voi abbiate scelto ebay come fornitore sito nel quale un venditore ha messo in vendita una culla usata ad un prezzo molto vantaggioso a questo punto con i dati che vi verranno forniti per la spedizione dovrete andare al checkout su ebay inserirli proprio al momento del pagamento e far spedire questa culla entro cinque giorni al vostro acquirente l'oggetto sarà quindi consegnato all'acquirente ma i soldi anche in questo caso ci viene in aiuto il regolamento scritto su vinted nel quale c'è ben specificato che l'acquirente dopo aver ricevuto l'articolo deve concludere l'ordine manualmente cliccando sull'apposito tasto per confermare che sia tutto ok e se non lo farà la piattaforma in automatico farà questa procedura dopo 21 giorni molta attenzione a questo passaggio se tutto andrà come deve andare non ci sarà nessun tipo di problema il vostro acquirente cliccherà sul tasto apposito e voi vedrete i soldi di oggetto più spedizione sbloccati sul saldo ma se ciò non avverrà potreste dover aspettare fino a 21 giorni questo ovviamente vuole anche dire che l'acquirente potenzialmente ha 21 giorni per dire che c'è qualcosa che non va se vuole aspettare fino all'ultimo per cliccare sul tasto penso di essere stato chiaro ed esaustivo nello spiegarvi come funziona al dropshipping su vinted con tutti i lati positivi e negativi che ci possano essere ma sapete già che per qualsiasi altro dubbio o domanda sezione commenti sempre aperta che per qualsiasi altro dubbio o domanda sezione commenti sempre per qualsiasi